Buongiorno a tutti, sono Fuglio Bergamini, sono il direttore dell'unità operativa di oculistica dell'istituto axologico. Siamo stati fermi due mesi, dobbiamo riprendere con delle basi serie. È importante e in alcuni casi fondamentale che tutti i pazienti tornino a prendersi cura della salute dei loro occhi al più presto. Per questo l'istituto axologico garantisce che l'accesso agli ambulatori e le visite vengano svolte nella massima sicurezza, in particolare per una disciplina come l'oculistica. È una delle poche specialità insieme alla odontoiatria dove il medico sta a circa 20-25-15 cm dal viso del paziente. Al momento dell'accesso in istituto verrà chiusurata la febbre a tutti, medici compresi. Tutte le persone presenti in ospedale dovranno sempre indossare la mascherina. Prima della visita inoltre il medico valuterà lo stato generale di salute del paziente. Nelle sale d'attesa sarà garantito il distanziamento fisico tra le persone e saranno messi a disposizione erogatori di gel igienizzanti. Abbiamo messo dei plexiglass davanti a ogni apparecchio, siano questi per le visite, sia il laser, la frongiografia. In modo tale da non permettere che ci sia un passaggio di questa vaporizzazione di queste particelle che possono essere preoccupanti per il paziente e per il medico. Anche gli interventi chirurgici riprenderanno regolarmente, tra cui quelli che riguardano i distacchi di retina e gli interventi per la cataratta. Le modalità di ingresso in istituto e di accettazione saranno le stesse, mentre in sala operatoria le procedure sono sostanzialmente quelle standard che già garantiscono la tutela del personale e dei pazienti, così come i controlli postoperatori che saranno svolti esattamente come nelle visite. Per i pazienti pediatrici abbiamo dedicato dei pomeriggi e delle mattine solo a questi piccoli pazienti e le visite oculistiche non saranno di 30 minuti per i bambini, ma saranno di 40 minuti. In questo periodo la medicina a distanza svolge un ruolo molto importante. L'istituto oxologico ha già attivato un servizio online che si chiama Video Opinion, che mette in contatto i pazienti con uno specialista e con i loro medici di riferimento. Si tratta di un servizio prezioso e di facile accesso che permette ai pazienti di superare eventuali dubbi e ricevere informazioni di qualità. Le visite oculistiche si possono prenotare direttamente online, sul sito di Oxologico oppure attraverso il call center dedicato.